L'amore vero si vede nelle difficoltà Su questo non ha dubbi Filippa Lagerbeck, sposata dal 2018 con Daniele Bossari, padre di sua figlia Stena La conduttrice non ha mai smesso di stargli accanto e insieme hanno superato alcuni momenti bui, uno in particolare Ha avuto due travagli duri racconta al Corriere della Sera, tornando a parlare di quegli anni, nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell'assistere Invece durante la depressione lo scenario era complicato È stata molto dura, continua, la sofferenza mentale è complessa, non hai terapia e pronto io Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita Ho anche pensato di avere la chiave della felicità Ma se l'avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua serratura, era lui che doveva trovare le risposte giuste Filippa Lagerbeck, da 18 anni nel programma Che tempo che fa, seguirà Fabio Fazio e Luciana Lettizzetto su 9 Con loro i rapporti sono ottimi, anche se non così stretti fuori dallo studio televisivo, noi tre ci sosteniamo dicendo, spiega ancora nell'intervista, non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme 49 anni tra un mese, la conduttrice commenta così il tempo che passa, i 40 anni non mi hanno toccato, invece i 50 sono tosti, fai un bilancio e pensi al futuro Contano anche le frasi, l'affascinante cinquantenne, è ancora una bella donna, 60 anni, ma non li dimostra Che palle! Non si sente mai dire lo stesso sugli uomini La mia idea? Bisogna saper invecchiare con noi